Perché si tratta di un premio che deve far conoscere la specializzazione nell'editoria che c'è in Puglia anche sui mercati esteri, perché noi vogliamo investire contemporaneamente sulla conoscenza e sulla cultura, ma anche sull'impresa che se ne occupa e che la diffonde. Per questo è fondamentale che ci siano strumenti di valorizzazione di questa conoscenza. 22.000 imprese nell'industria creativa e culturale, 55.000 addetti, 2 miliardi e mezzo di valore aggiunto. Credo che giustifichino questo impegno.